Un amore eterno è spesso simboleggiato da una fede, un anello che rappresenta un impegno duraturo e indissolubile. Tuttavia, talvolta possono verificarsi situazioni inaspettate, come un incidente o un intervento medico urgente, che possono portare alla necessità di tagliare la fede per motivi di salute. In tali circostanze, il gioielliere esperto diventa un alleato prezioso, in quanto la fede può essere restaurata per conservare intatto il significato del legame affettivo tra due anime gemelle. La fede, simbolo di amore eterno. La fede è un gioiello carico di significato, spesso scelto per rappresentare l'unione eterna tra due persone. Le sue origini risalgono all'antica Roma, dove l'anello veniva indossato per simboleggiare la promessa di matrimonio e la fedeltà reciproca. Oggi, la tradizione continua con forza, e la fede è diventata un simbolo universale di amore, fiducia e impegno. Quando una fede viene tagliata a causa di un'emergenza medica, il suo valore sentimentale non diminuisce, anzi, la possibilità di restaurarla rappresenta un segno di speranza e rinascita. Restaurare una fede tagliata in ospedale. La situazione in cui una fede deve essere tagliata in ospedale può essere sconvolgente per entrambi i partner. Tuttavia, è fondamentale mantenere la calma e seguire le istruzioni del personale medico. Una volta che l'emergenza è stata affrontata e la fede è stata rimossa, è possibile pensarci in modo ottimistico, la fede può essere restaurata. In questo frangente, l'intervento di un gioielliere esperto è imprescindibile. L'importanza di un gioielliere esperto. La fiducia in un gioielliere esperto è fondamentale quando si tratta di restaurare una fede tagliata. Solo un professionista con anni di esperienza e competenza nel settore può gestire il processo di restauro con cura e precisione. Il gioielliere, dotato di attrezzature specializzate, avrà la capacità di valutare attentamente i danni alla fede e proporre le migliori soluzioni per il ripristino del gioiello. Valutazione e analisi dei danni. Una volta consegnata la fede al gioielliere, questi procederà con una valutazione approfondita dei danni. Questo passaggio è cruciale, in quanto permette di identificare le parti dell'anello che possono essere recuperate e quelle che richiedono una sostituzione. Il gioielliere potrebbe suggerire l'utilizzo di materiali simili o la reintegrazione delle gemme se presenti, assicurandosi che il restauro sia il più fedele possibile all'originale. L'arte del restauro. Il restauro di una fede tagliata è un'arte delicata e meticolosa. Il gioielliere esperto utilizzerà tecniche avanzate per unire le parti danneggiate, garantendo una saldatura resistente ed esteticamente perfetta. Durante questo processo, il gioielliere presterà particolare attenzione all'allineamento, alla simmetria e all'integrità del design originale, preservando l'unicità e il significato del gioiello. Il tocco finale. Una volta che il processo di restauro è stato completato, la fede tornerà al suo splendore originale. Tuttavia, il lavoro del gioielliere non finisce qui. Sarà necessario un controllo finale per assicurarsi che tutte le parti siano al loro posto e che il gioiello sia perfettamente sicuro da indossare. Solo quando ogni dettaglio è stato attentamente verificato, la fede restaurata verrà restituita ai suoi proprietari con la promessa di custodire il simbolo dell'amore eterno. Il restauro di una fede tagliata in ospedale è possibile grazie all'abile intervento di un gioielliere esperto. Questo processo non solo ripristina l'aspetto esteriore del gioiello, ma restituisce anche il valore sentimentale di un legame duraturo e indissolubile. Attraverso l'arte del restauro, una fede danneggiata diventa un simbolo ancora più potente, capace di raccontare una storia di speranza, amore e rinascita. Perciò, se ti trovi in questa situazione, affidati a un gioielliere di fiducia e lascia che la tua fede torni a brillare come nuovo, preservando per sempre il legame speciale tra te e la persona che ami.